Professor Schitulli, la sigaretta elettronica, si pensava che mettere sul mercato questo tipo di sigaretta potesse anche sostituire il tabacco tradizionale, ma adesso il Ministero ha proibito per i minori l'uso di questa sigaretta, c'è nato un grande business e forse anche una moda della sigaretta elettronica, ma secondo lei fa male o no la sigaretta elettronica? Io condivido l'impostazione data dal Ministero della Salute perché è un atteggiamento di prudenza nei confronti di nuove strumentazioni a disposizione dell'uomo e dobbiamo stare molto attenti perché non vi possa essere una commercializzazione e quindi fattori economici che prevalgono sull'interesse del bene assoluto della persona che è rappresentata dallo Stato di Salute, dal suo Stato di Benessere. La prudenza è determinata dal fatto che non abbiamo dati scientifici neppure preliminari e quindi neppure attendibili, neppure consolidati che la sigaretta elettronica non faccia male. E di qui quindi la necessità di intervenire con altre metodiche per smettere di fumare, metodiche peraltro portate avanti anche dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Dico questo perché noi stiamo vivendo ancora delle esperienze molto severe, molto pesanti per altre situazioni. Penso per esempio agli anni 60, agli anni 70, all'uso dell'Eternit, dell'amianto, i capannoni delle nostre imprese, ma anche i tetti delle nostre abitazioni, questo hanno comportato un serio danno alla salute dei cittadini, non soltanto minandola ma portandoli anche a sviluppare malattie a livello soprattutto in questo caso respiratorie di notevole entità. E poi penso anche per esempio all'uso smisurato, e lì dovremmo essere ancora più attenti, all'uso smisurato dei telefonini. Guardate, noi stiamo invertendo quella che è la fisiologia della natura, la stiamo insultando. Noi abbiamo bisogno di regolamentare questo. I campi elettromagnetici con l'avvento della tecnologia e dell'innovazione ha portato una rivoluzione in questo settore. E penso ai danni che possono venire fuori dall'uso smisurato del cellulare a partire dai bambini, dai giovani e poi a mano a mano negli anni. Ci sono delle ripercussioni che si registrano a livello anche comportamentale, a livello anche cerebrale. Tutto questo deve farci intendere come la prudenza non deve mai allinearsi con ciò che di pericoloso possa poi determinare la perdita dello stato di salute.